allora questo è il tramonto del sole del 11 dicembre 2019 visto dal tetto dell'istituto tecnico galileo ferraris federico caffè nella sede di via di villa panfili 86 il sole sta tramontando sulla sinistra del campanile di nostra signora della saletta che poi vedremo ora ti conviene fare il video da qua comincia perché così non mi sgrana perché è una macchina cioè comunque un video sullo schermo come il sole non tramonta due volte ti conviene approfittare io l'ho fatto una volta sto usando sto usando la tecnica del cavallo vincente non si cambia il sole è saturo perché è bianco adesso sta per toccare case dell'orizzonte e la durata del tramonto sarà intorno ai tre minuti e mezzo un doppio grazie grazie a tutti grazie a tutti Ok, sono riuscito quasi a eliminare il tremore mio. Però è completamente saturo, non riesco a vedere il profilo del sole. Eh sì, adesso anche a me è venuto abbastanza saturo. Eccolo qua. Prof, così va bene, no? Eh, benissimo, devi tenerlo fermo, però prova a tenere la mano, cioè a tenerlo bloccato lì. Ok, faccio il video giusto. Allora, prima si intravedeva il disco del sole, adesso è tutto saturo e quindi la luminosità è prevalentemente del fondo cielo. Non riusciamo a vedere. Questo è il massimo, non mi viene. Non mi viene. Allora, poi nel video bisogna, quando si fanno proprio le misure tecniche, bisogna mettere anche il tempo universale. Quindi l'orologio, quando c'è scritto RCVD vuol dire che ha ricevuto il messaggio radio ed è sincronizzato al centesimo di secondo quasi. Ok, penso che sulla nostra linea di vista il sole non ci sia più. C'è, c'è. Eccolo qua. Eccolo qua. Stammi via così. Allora, qualcuno di voi ha visto la cupola di San Pietro per caso? Io ci abito alla parte. Io pure. C'ho la davanti in casa. La lanterna della cupola di San Pietro. Ciao. Per l'interno 420 ci arrivi. Eh sì, sta per prima. No, c'è un Huawei. No, io sono. No, io sono. Ti amici. Le fa le foto così? Sì. Il mio te lo fai. Come la tua la sto facendo. L'ultimo lembosolare sta qua. L'abbiamo visto ogni... Possiamo far fare 10 minuti. Aspetta, così si vede. Quarto eh. No, aspetta. Mi farei dopo l'osservazione. Assolutamente. Dai, me l'ho fatto 5 minuti. Eccolo. Dai, me la mandi. Eh, ragazzi, come corso europeo abbiamo una vista che neanche se... che se la sognano a Bruxelles. Eh? Dai, figlio. No. 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 Allora, ora occhio alla storia della cintura di Venere e dell'ombra della Terra. Perché è un fenomeno che compare all'improvviso. Allora, sul nostro orizzonte il sole è sparito. adesso è sotto quelle case quindi nel video io riprendo l'orologio perché poi fotogramma per fotogramma ricaviamo ecco la torre della Saletta il mio professore di fisica solare il professor Cacciani voleva installare nella torre della Saletta che stiamo vedendo adesso delle lenti per fare una torre solare come quella che hai visto a Wairu cioè questa è una colonna che lui ha individuato che era idonea a fare un osservatorio solare Alessandro Cacciani